bello a tutti ragazzi siamo da capo qui ritornati sono sempre io il vostro salte lopez per chi non mi conosce e oggi io vi porterò un bellissimo video vedremo insieme l'album dei calciatori panieri di tutte le squadre lo vedremo insieme scusate se questo è un video breve ma però lo vedremo poi stasera uscirà un altro video sui giochi per ricordare il video chi non l'ha fatto iscrivetevi al canale mettete un pollice in giù e buona visione oggi vedremo prima la copertina dei calciatori panini tutte le squadre io faccio ogni anno la collezione dei calciatori panini 2015 2016 come apriamo vediamo la prima pagina come sempre non so se la riuscite a vedere questa pagina poi la prima squadra che andremo a visitare ed è l'atalanda questo giocatore qui è german dennis ora mi leggerò questa è l'atalanda l'atalanda io soltanto un giocatore raffaele toloi non so se lo vedete poi la seconda squadra che andremo a vedere è il bologna con mattia destro il giocatore è il giocatore e alzi portiere che ho del bologna e angelo da costa secondo portiere poi andiamo a vedere cappi con marco boriello grandissimo ex della juve della roma e il giocatore che ho del cappi e gabriel silva poi l'altra squadra è il chievo verona il chievo verona è questo e non ho nessuno del chievo verona faccio pure vedere in telecamera poi l'altra squadra che andremo a visitare è l'empoli l'empoli non ho neanche un giocatore questa è la prima pagina dell'empoli qui e poi questa qua questa e poi l'altra squadra che andremo a visitare la fiorentina che poi nei giorni io porterò i pacchetti di spacchettare come ho detto nel video precedente e della fiorentina come dicevo prima la fiorentina fiorentina dovevano due giocatori mario suarez e jacob brasilkovski così si legge così se li vedete tutte e due poi ultima squadra che andiamo a visitare ora è il frosidone poi porterò stasera metà di questo di album e poi un gioco ed è il frosidone guardate dovevo un portiere massimo zappino non so se lo vedete secondo portiere l'allegatore roberto stellone per questo è tutto amici io spero che vi ho lasciato un sorriso mettete un mi piace condividete questo video iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video ciao